Così ora avremo quella lì tutti i giorni tra i piedi Questa patti più che noiosa è un incubo, non credi? Sì, ehi, ci credete che è arrivata proprio nel momento in cui Mattias mi stava perdendo una cosa molto importante? E tu come lo sai? Perché è ovvio ragazze, tutto faceva sembrare che stesse per fare qualcosa Tu credi davvero che Mattias sia cotto di te? Ragazze, Mattias è completamente partito Non vedete come mi guarda, ormai è stracotto di me